Siamo a fine anno, Giulio Basso, momento di celebrazione per il quattro campione del mondo nel Costa Rowing, due belle vetrine, protagonista sia dello spot di Genova 2024 sia della recentissima premiazione della regione Liguria. Sono soddisfazioni, un grande lavoro che hai svolto con questo equipaggio e che davvero ha pagato tantissimo. Sì, siamo molto orgogliosi di questo equipaggio interamente genovese, di ragazzi che hanno anche partecipato alla regata delle Repubbliche Marinari di Genova, quindi un orgoglio a tutti gli effetti genovese. È stato creato qua a Rowing Club genovese, siamo allenati sulle acque di Genova e poi siamo andati a confrontarci a Barletta dove abbiamo vinto questo bellissimo mondiale grazie anche alla nostra esperienza che abbiamo già avuto negli anni passati in questa specialità. Cosa ha fatto la differenza per questo equipaggio? Allora, sicuramente sono ragazzi che lavorano tanto, con umiltà, un bel bellissimo gruppo, un timoniere con grossa esperienza. Queste sono state le nostre armi in più. Un 2023 ricco di soddisfazioni per il Rowing, è arrivato anche a un titolo mondiale. Sì, grazie a Tommaso Rossi, in quadro di coppia a peso leggero, risultato che mancava dal 2019, quindi già 3-4 anni. È stato bravissimo a Poznan a abissare quello che era già successo appunto nel 2019 con Costa Giacomo. Forse la soddisfazione più grande è quella di creare costantemente il ricambio con giovani che si mettono sempre in evidenza in campo nazionale. Sì, il Rowing Club genovese è anni che ormai siamo la prima società Ligure e nelle prime 10 stabilmente in Italia. Siamo riusciti appunto in questi anni a continuare a avere un ricambio e anche oggi con la regata campionato Ligure Indoor abbiamo appena avuto risultati veramente confortevoli con la categoria ragazzi, con giovani di 15-16 anni che saranno poi il nostro futuro. E guardando al prossimo anno? Il prossimo anno? Allora, Costa Rowing è il campionato del mondo a Genova, quindi cercheremo in tutti i modi di difendere quanto ho fatto oggi, quanto ho fatto nel mese scorso e poi abbiamo giovani ragazzi per andare a fare quello che comunque abbiamo già messo alle basi quest'anno.